Il fascismo, il fascismo, il fascismo, la protezione con la repressione. Ormai lo sappiamo caro Cruciani, per i compagni ogni scusa è buona per gridare al fascismo. Personalmente l'unico atteggiamento dittatoriale prepotente che vedo nelle piazze è quello di questi universitari comunistelli che non vogliono permettere a chi non la pensa come loro di parlare. Da cittadino italiano ringrazierò sempre gente come te caro Cruciani che gli ricordi a questi compagni che loro non hanno nessun diritto di rompere il cazzo a chi non la pensa come loro. E lo ripeterò sempre, volete fare comunisti, andate in Corea del Nord a fare comunisti. L'Ava aspetta uno col sussidio, qualche chilo di riso e se vi dice bene pure qualche sardina. Io non capisco come si possa parlare di repressione o come si possa parlare di mancanza di spazi democratici. segnalo che nei primi due mesi del 2024, questi sono dati ufficiali, ci sono state 2822 manifestazioni importanti con spiccato interesse per l'ordine pubblico, il 40% in più rispetto al 2023. Dunque, in Italia, come è noto, non vi voglio annoiare con i numeri che non è la mia materia, ma un dato che ho raccolto che mi ha trasmesso il Ministero degli Interni, in Italia si può manifestare tranquillamente, anzi qualcuno dice si manifesta anche troppo. Io non dico questo. In Italia c'è grande libertà di manifestazione, non c'è alcuna repressione. In Italia si può fare tutto, qualsiasi cosa, sputare in faccia i poliziotti. Avete sentito quel servizio? Anche manganellare gli studenti, come è accaduto a Pisa. Fammi finire di parlare, cento, fammi finire di sputare che non va a fare. Ma fammi finire di parlare, ma anche manganellare gli studenti a Pisa. Paolo, vuoi intervenire un attimo? Perché fammi finire di parlare. Ti faccio finire, però dimmi la tutta. Allora, fammi finire, io sto dicendo, in Italia si può fare qualsiasi cosa. Sputare in faccia i poliziotti, dire ai poliziotti, come avete visto in quel bellissimo servizio di prima, poliziotti, merda, assassini, davanti, cosa che in qualsiasi altro paese non sarebbe tollerata. Dunque, accantoniamo questa questione della repressione, perché è una cosa che non esiste. E quindi le manganellate le abbiamo inventate. È un altro discorso, lascia perdere, cento. No, 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 parliamo di repressione. Prima di continuare con il video, però, vi chiedo un favore di iscrivervi al canale. È gratis, ogni giorno troverete nuovi video. Cosa aspettate? Stiamo parlando, non stiamo parlando della questione della manganellate, stiamo parlando di quello che avviene nelle piazze italiane. Ora, avviene esattamente il contrario di quello che raccontano questi signori, che per fortuna sono delle minoranze piccolissime in Italia. Delle minoranze piccolissime che purtroppo prevaricano la stragrande maggioranza degli studenti dell'università, a cui non gliene frega nulla di quello che dicono questi qua. Ma lasciamo perdere questioni di minoranze o maggioranze, anche le minoranze possono protestare e lo fanno tranquillamente. Chi sono gli intolleranti? Chi sono quelli che reprimono? Chi sono quelli... Gli antidemocratici? Il governo evidentemente no, perché non c'è nessun atteggiamento antidemocratico del governo. Gli unici antidemocratici che ci sono, sono quei signori, che abbiamo visto nel servizio, non so, quelli collegati, non so chi siano, che impediscono a perdere, persone di esprimere la loro opinione. Persone diversissime che hanno l'unico peccato spesso di essere ebrei, innanzitutto, ebrei leggermente a favore di Israele, non tutti a favore di Netanyahu, alcuni criticano fortemente anche Netanyahu. E dall'altra parte c'è chi parla della tragedia di Gaza. Fermate, ma non c'entra niente. Dall'altra parte c'è chi parla della tragedia di Gaza. Impediscono a chiunque non sia della loro opinione, cioè Israele uguale, genocidio di parlare. Chi sono i fascisti barra comunisti intolleranti? Fatemi una domanda e datevi pure una risposta. Allora, vale.